Ciao a tutti gnaccheri, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mushix e oggi siamo su Minecraft! Oggi è San Valentino e vi riporto la serie Vanilla con un episodio speciale. E' da diversi giorni che non esce questa Vanilla e ragazzi c'è un motivo, perché ho farmato davvero tantissimo. Lì vedete degli scalini e vedete molto 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 più piatto e mi vedete ad un mob grinder diverso da quello vecchio. Beh, perché l'ho fatto nuovo, ho seguito un tutorial su internet e non so perché proprio quando inizio a registrare i mob non cadono più. Va bene, perfetto. Detto questo dovrei avere acqua sotto, quindi mi lancio, spero di non spaccarmi tutto. Ed oggi, essendo San Valentino, ho preparato qualcosa di molto 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 speciale per voi. Cioè, non l'ho preparato ma andremo a farlo assieme. Prima vi faccio vedere un attimino tutto il continente adesso modificato. Cioè, ho preso roba come 20 o 22 pale di ferro differenti e ragazzi ho terraformato tutto il territorio. Qui ho trovato, perché ho scoperto che potevano spawnare, e anzi c'è il 3% di possibilità di spawn delle pecore marroni. Le ho trovate due e ho iniziato così a catturarle instant, perché ragazzi era l'unico colore che mi mancava. E l'unico metodo per averle marroni era o appunto lo spawn naturale, oppure effettivamente andare a trovare la giungla. E quindi, spawn naturale sia. Ora che sono abbastanza potrei anche portarle nella farm quella che si trova da quella parte, ma lo farò off camera io perché è una roba pallosissima. Prima di vedere cos'è quella super testona che sarebbe alla fin fine la farm di villageri, vado a segnare sul muro tre di voi, come al solito. Di conseguenza prendiamoci tre spade e dovrei anche rifarle in teoria. Il primo estratto è Sergio Gurm. Il secondo è dralex2467. E infine l'ultimo che ha condiviso il video iscritto con rettente l'hashtag è Andrea Gennari. Eccolo qui. E ora li mettiamo sul muro ovviamente. Tanto già lo so che molto 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 presto dovremo allargare tutto questo muro. E in tutto ciò ho anche finito il mio cibo, quindi devo andarmelo a prendere. Ho farmato un bel po' di pecorelle, infatti abbiamo un sacco un sacco un sacco di carne di pecora. Prima di andare avanti però vi faccio anche vedere la farm di villageri che vabbè, sono così tanti che in pratica si si glicciano e riescono ad uscire fuori. Anche se ne scappa qualcuno chi se ne frega perché ce voglio dire potremmo ammazzarli e li avremmo sempre e comunque infiniti. Allora non so qual è il cartografo che voi mi avete detto che serve tantissimo il cartografo e sinceramente al momento non mi interessa perché ho tante cose da fare. E prima o poi dovremo prendere questi villageri, anzi nei prossimi episodi e andare a fare qui dove un giorno una volta sorgeva il vecchio villaggio dei villageri. E qui c'è probabilmente una vecchia signorina che sta rimpiangendo la sua casa, anzi qui magari c'era la sua casa un tempo prima che razziassi tutto quanto. E in pratica qui farò la farm, quella automatica con i villageri all'interno, una roba strafica. Però oggi effettivamente non è tempo di villageri, bensì è tempo di San Valentino, eh eh cari miei gniaccheri. Solo per oggi vedo questo episodio speciale di San Valentino, l'hashtag da scrivere qui sotto nei commenti sarà hashtag amore, amore e fratellanza e fraternità e bacini e un po' lingua e un po' cose zozze perché San Valentino sono anche cose zozze. Comunque per essere salutati dovete anche condividere il video, mi raccomando. Avevo in mente una cosa stra 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 tema San Valentino e anche se non ho abbastanza attrezzi perché mi servirà un bel po' il piccone e robe simili. Vabbè non fa niente, avevo già spostato un sacco di materiale perché ragazzi questa montagna qui sarà la nostra tra virgolette tela su cui andremo a costruire un mega cuore gigante con tantissimi colori. Ecco qui ragazzi, lo voglio fare proprio arcobaleno, ho preso 4 stack più o meno di ognuno e un po' di terra per avere del materiale da costruzione e sì questa è ancora roba del mob grinder, vabbè non fa niente. Non sarà un cuore normale, bensì sarà un cuore tridimensionale all'interno della montagna. Ho visto già un progetto che è quello che poi noi andremo a seguire e ho paura che sia troppo grande ma ragazzi noi non ci possiamo mica accontentare così di così poco. Quindi quindi ragazzi cesoie alla mano e tutto il resto e iniziamo a costruire. In realtà ero stra 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 mega indeciso se fare il cuore praticamente tridimensionale o bidimensionale oppure se è tutto di un colore o meno. Ho deciso di farlo così tridimensionale così sarà ancora più figo e ancora più difficile da fare ovviamente. Allora per iniziare dobbiamo alzarci un bel po' perché sendo tridimensionale il cuore sarà più grosso sotto, più piccolo sopra. Quindi non so effettivamente quanti blocchi di distanza dobbiamo lasciare da terra ma sarà anche molto alto quindi ragazzi ho paura che proprio sfondi letteralmente la montagna. Allora per iniziare facciamo da 1 e poi 3 e poi sopra 5 quindi possiamo anche sbagliare i blocchettini perché tanto costruiremo davvero per un bel po' di tempo. Poi ci allarghiamo ancora proprio a scaletta quasi e ovviamente non ci lasciamo buchi dietro e anzi io direi anche ogni tanto di cadere non lì, non lì, non lì, non lì, non lì cacchio. Volevo dire sul pillarone per alzare il pillarone e rimanere sempre alla nostra altezza così da non avere problemi. Solo che abbiamo sempre comunque problemi perché se no non mi chiamerei Bushix. E questo dovrebbe essere l'ultimo scalino più o meno quindi andiamo, andiamo, andiamo ragazzi fino ad arrivare ad una larghezza totale di, sono 13 se non erro. Quindi davvero tanto ragazzi sarà un cuore gigantesco infatti sono già quasi sicuro che non ci basterà, non ci basterà la lana. Ma ragazzi prima o poi lo finiremo questo coso, credo, spero. Dopodiché dobbiamo ancora salire ed uscire di uno, poi salire e uscire di uno, poi ancora quell'uno, poi salire, uscire di uno e ancora quell'uno. E dobbiamo così fare di nuovo tutte le file. No, 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 ma mi può comparire il creeper davanti agli occhi, davanti. Manco a dire ha fatto la parte, lo può avanti e così mi sfanculizza però tutti i conti. Che stronzo. Oltretutto ragazzi non ho i suoni, non so perché mi si sono bugati anche i suoni, quindi molto molto male. Dai iniziamo a mettere un po' di torcia, va, abbiamo capito qui com'è la faccenda. Dopodiché qui dobbiamo riempire tutto tranne che quello centrale. Ok, dopodiché sopra dobbiamo riempire di nuovo tutto tranne che gli altri due, quindi quasi il rovescio di quello che abbiamo fatto all'inizio. E continuiamo così a lasciarne praticamente sempre uno in più. Fino alla fine a lasciare, a rientrare, quindi fare praticamente due. E ragazzi vi dico già che questo è il primo cuore che in pratica è stato completato. Se non fosse che c'è qualche problema qui, c'è un grosso problema di base. Perché lì mi trovi qui, no cacchio? Adesso che il primo cuore dovrebbe essere completato, noi dobbiamo scendere da uno dei nostri pillaroni. Perché dobbiamo continuare sotto e di dietro, tra virgolette. Ma abbiamo bisogno, come ben sapete, dell'altra lana. Perché voglio fare ogni strato di un colore differente. Perché ragazzi l'amore è questo, l'amore sono tanti strati uno vicino all'altro che vanno a formare una cosa bellissima assieme. E anche perché non avrei mai nella vita tutta quanta questa lana. Per fare dello stesso colore tutto il cuore tridimensionale. Sì, dovrebbe essere un cuore, spero. Vabbè, poi vedremo meglio da lontanissimo. E con un po' di parkour riusciamo qui a salire, ma devo fin da subito andare a spaccare blocchi. Ecco qui, oggi ne spaccheremo davvero tantissimi di blocchi ragazzi. Però se da un lato siamo cosetti a spaccarne davvero tantissimi, dall'altro siamo un po' avvantaggiati da questa parete qui. Perché ogni volta sarà un pochettino facile. Dai, un po' più semplice del dovuto. Allora, mettiamo un blocco qua dietro, uno qui sotto e dobbiamo fare in pratica lo scalino da cinque. Quindi sono due di qua e due dall'altra parte. And due da questa parte. Sotto sono solo tre. Sono uno, due e tre. E poi ancora più sotto uno. Perfetto ragazzi. Adesso dobbiamo sempre uscire in pratica di tre. E questo implica una scalettina in pratica. Fino invece ad arrivare al punto in cui c'è lo spacco del cuore. Quindi lì dove si esce solo di due e non più di tre. E dopo un bel po' di lavoro, prove e robe di questo tipo, noto che lì c'è un piccolo errore, mi sembra. Non lo so. Perché lì mancano tipo tre blocchi, mentre l'altra parte solo uno. Quindi vabbè, lì c'è un piccolo errore. Ma per il resto, secondo me, va abbastanza bene. La faccenda mi sta un po' sfuggendo di mano perché il tutto sta diventando sempre più grosso a dismisura. E non è ancora finita qui ragazzi. Assomiglia sempre di più al cuore delle super chicche. Ma l'amore grosso implica un cuore grosso. Grosso più grosso ancora. Minchia quanto tempo sto lavorando su sta costruzione. Se non lasciate like, non lo so, non avrete mai amore nella vostra vita. Oh, e io non ho più l'italiano per quanto tempo sto qui sopra. Purtroppo si iniziano a finire tre stacchi interi per fare il giro. Ma adesso tocca alla lana rossa. Ho dovuto prendere picconi quelli in ferro ragazzi. Perché se no mi si stava rompendo il piccone a quello lì. In diamante. E poi qui come potrebbe notare ho tutta la cobblestone. Cioè l'ho smistata all'interno del... Poi vabbè ho dovuto riempire l'inventario con tutta la cobblestone. Perché in questo modo tutte le altre cose come diurite e cacchiate varie non mi arrivano. Andesite, diurite, tutte quelle che stanno queste qui non mi entrano nell'inventario. Perché tanto non le voglio. Ma ti pareva che dovevo beccare un dungeon, una caverna, una grotta sotterranea piena d'acqua. Proprio dove devo fare io la costruzione ma porca di una miseria. Ok ragazzuoli mi sto allontanando più che posso. E questo è quanto. Non è finito. Però ho fatto anche l'ultimo strato più esterno. Adesso devo rientrare dentro. Sì perché così come ho fatto all'esterno devo fare che rientra. Perché ragazzi rientra dentro la montagna. Cioè è tridimensionale. Di conseguenza devo prendere l'altra lana perché non credo mi basti. E devo rientrare. L'effetto già da adesso è molto molto bello. È molto molto figo secondo me. Ed è uscito bello grosso a quanto pare. Mie cari gnaccheri l'amore richiede davvero un sacco ma un sacco ma un sacco di tempo. Un sacco di dedizione. Ma ragazzi credo di aver finalmente finito il nostro cuore. Ho fatto una cosa un po' inutile ossia il retro perché solo noi sapremo che c'è anche il retro. Ma quando ami qualcosa o qualcuno non c'è bisogno che tutti sappiano cosa c'è dietro. L'importante è che tu lo sai. Quindi ecco a voi il nostro cuore. Ho fatto in pratica in modo che si possa entrare da questa parte. E vi faccio vedere anche com'è dentro. È qualcosa di davvero allucinante. È molto figo secondo me. E ho dovuto metterci un sacco di torce dentro perché sennò spawnavano i mob sulla lana. E guardate in pratica posso fare il giro anche qui dentro. E non so bene come rendere l'effetto. Ossia l'effetto tipo rientranza all'interno della montagna. Guardate un pochettino. È davvero un effetto fighissimo. E lì sopra cosa c'è? Non mi direi che c'è. Ah no è una pecora. Perfetto. Pensavo fosse già nato Cucupido in pratica. Ossia uno scheletro. Ho fatto un cartello come potete ben notare. Perché ho deciso di piazzarlo qui nel nostro antro d'amore. Perché scriverò la dedica per questo San Valentino al mio personalissimo amore. Ossia vabbè si chiama Daniela la mia ragazza ma io la chiamo Apetta. Quindi ti amo o mia Apetta. Facciamo così con il vocativo. O mia Apetta. Ti amo o mia Apetta. Pure con il cuoricino più emblematico di così. Davvero non si può fare. Questo ragazzi lo dedico effettivamente alla mia ragazza. E lì non so come ho fatto ma ho lasciato un bel blocchettino. Vabbè poi lo vado a rimuovere perché mi dà fastidio. Sto registrando questa clip il giorno dopo di ieri. Quindi c'è ieri ho registrato e oggi sto registrando questa clip. Perché ieri notte mi è venuta in mente una cosa e l'ho fatta ragazzi. Ci ho messo un sacco un sacco un sacco un sacco di tempo. Ed è la cosa più kitsch che si possa mai fare su Minecraft. Forse uno spicchettino l'avete già visto. Ragazzi ho fatto questa cosa. Ossia ho riempito di torce tutto attorno al cuore. E gli ho fatto dentro a mano un sistema che praticamente portasse l'energia a tutto il cuore. In maniera graduale. Perché non doveva accendersi e spegnersi. Bensì doveva fare appunto questo effetto. E lì c'è un creeper. E a me sta laggando tutto a merda. Non vorrei aver fatto un sistema troppo complesso che Minecraft sta per crasharmi. Questo qui è ciò che ho fatto all'interno. Forse dovrei mettere altre torce perché forse è un po' scuro. Non lo so l'ho messa ai lati per il momento le torce. Ma non vorrei mai che qualcuno spawnasse qui dentro. Quindi ragazzi non è tutto. In realtà ho dovuto sacrificare un po' dell'interno del cuore per far passare i circuiti. Però dall'esterno non si vede. Quindi ragazzi buon San Valentino. Perché adesso il nostro cuore tra virgolette batte. Perché comunque è figo. Cioè a me piace molto di più così adesso. Sarà che ci ho messo non so scherzano tre ore e mezza o qualcosa del genere. Per finirlo. Ma secondo me ne vale la pena. Detto questo vi lascio alla fine del video. Se questo video vi piacerebbe lasciate un bel like su tutto. Iscrivetevi al canale. Questa è tanto ma tanto altro ancora. Visitate qui il video l'instagram e il click qui sotto in descrizione. E quindi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!